Una lettera al popolo di Dio, parole accorate e toni drammatici per richiamare la Chiesa alle sue responsabilità dopo l'ennesimo, violentissimo scandalo sessuale che l'ha investita. Una settimana fa la pubblicazione negli Stati Uniti di un rapporto del Gran Giurì della Pensilvania che ha indagato su abusi sessuali di potere e di coscienza commessi da sacerdoti in 70 anni. Oltre mille le vittime di crimini accertati in sei delle otto diocesi dello Stato americano. Papa Francesco, con le parole di San Paolo, invita tutta la comunità ecclesiale a farsi carico del dolore e della vergogna per fatti che hanno generato ferite non solo negli abusati ma anche in tanti credenti. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Il Pontefice ammette che non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e riparare il danno causato. Il dolore delle vittime è anche il nostro dolore. Le ferite non spariscono e non vanno in prescrizione, afferma e richiedono una condanna ferma e sforzi comuni. Ancora una volta richiama il grido delle vittime salito al cielo, ma ignorato e nascosto per molto tempo all'interno della Chiesa. Abbiamo trascurato e abbandonato i piccoli, ammette il Papa, che ricorda la denuncia del cardinale Ratzinger sulla sporcizia nella Chiesa durante la via Crucis del 2005. Invita l'intera comunità ecclesiale a farsi carico in maniera globale degli scandali che hanno travolto la Chiesa. Responsabilità e conversione, oltre alla solidarietà fattiva verso chi è stato ferito nella carne e nello spirito. Toleranza zero, la linea da seguire, che ha già portato risultati evidenti, siccome ammette lo stesso gran giurì della Pensilvania, dal 2002 non si registrano nuovi casi, ma anche preghiere e digiuno per sradicare il clericalismo, male all'origine di tante strutture e la cultura dell'abuso. Francesco chiede a tutti i battezzati di implorare la grazia del perdono e della vergogna, perché si possa ascoltare il dolore silenzioso dei bambini e lavorare per un mai più verso ogni forma di abuso.